Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha commentato le polemiche sulla realizzazione dell'alta velocità ferroviaria ed ha affermato che in Veneto non esiste nessun sentimento anti-TAV. La difendiamo non solo come aspetto di modernità ma anche come visione di quegli itinerari europei da cui il Veneto non vuole essere tagliato fuori. Zaia si augura che il presidente del Consiglio prenda in mano il dossier e sblocchi la situazione. È stata una pattuglia della polizia stradale ad intervenire in un'abitazione nel Bellunese per salvare una bambina di 5 anni colta da una grave crisi respiratoria. Secondo le notizie che abbiamo, i genitori avevano chiamato il 118 ma l'ospedale in quel momento non aveva ambulanze a disposizione. Compresa la gravità, la pattuglia con estrema velocità ha preso la piccola e l'ha trasportata al pronto soccorso. La pattuglia è quella del distaccamento della polizia stradale di Feltre. Oggi è stata una giornata di scioperi e disagi in vari settori con differenze orarie e anche di partecipazione a seconda delle regioni. Sentiamo. Per la ricorrenza dell'8 marzo, festa della donna, numerosi scioperi da parte dei mezzi e dei trasporti pubblici hanno creato qualche disagio. A livello nazionale, anche se in ogni città con modalità diverse, sono stati cancellati bus, treni e aerei. A questo ha portato la scelta della Confederazione Unitaria di Base dell'Unione Sindacale di Base che ha colto la ricorrenza per rivendicare più diritti e più uguaglianza, uno sciopero generale femminista. In particolare, come riportano in una nota USB e Cube, l'elenco delle motivazioni è stato dettagliato. La violenza maschile sulle donne, le discriminazioni di genere contro la precarietà, le privatizzazioni del welfare, il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, reddito universale incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all'educazione scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa. Lo sciopero dei sindacati autonomi, con modalità diverse e a seconda delle regioni, è interessato le 24 ore, con la garanzia dei servizi essenziali per i trasporti pubblici, come previsto dalla legge, dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. I mezzi pubblici hanno circolato regolarmente per permettere agli studenti e ai lavoratori di potersi recare nei propri luoghi di studio e lavori. Alcuni treni, tuttavia, sono arrivati in ritardo o sono stati cancellati. A essere coinvolti anche l'intero sistema ferroviario, che comprende Trenitalia, Italo e Trenord, per quanto riguarda i treni regionali, sono stati garantiti i servizi essenziali, previsti dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Dalle 14 alle 18, inoltre, si sono fermati i lavoratori aereoportuali di terra e naviganti, compresi i dipendenti di Alitalia della categoria dei piloti, assistenti di volo e personale di terra. A Padova, truffatori ancora in azione. Si è verificato un episodio simile a quello avvenuto in Piazza del Santo, dove un uomo zoppicante chiedeva fondi da destinare ad una nobile causa per i bambini. Con la stessa identica scusa, venivano avvicinate persone e gli veniva chiesto un versamento di pochi euro e anche in questo caso veniva rilasciata una falsa ricevuta. Il secondo episodio si è verificato in Piazza Cavour, sempre in centro città a Padova. Questa volta, però, diversi anche gli autori, un uomo e una donna di nazionalità rumena. Dalle 7.30 di questa mattina, la Polizia Locale di Jesolo e un'unità cinofila proveniente dal Comando di Polizia Locale di Venezia hanno svolto dei controlli in un istituto professionale scolastico volti a individuare la presenza e lo spazio di sostanze stupefacenti. Il servizio di prevenzione e contrasto ha portato all'individuazione di circa 0,65 grammi di marihuana che era contenuto in un sacchetto di cellofan, 0,21 di marihuana in una scatola di caramelle e 1,37 grammi di marihuana in un altro contenitore per il tabacco. Essendo sostanze stupefacenti abbandonate dai gnoti, gettate a terra probabilmente dopo aver compreso che era in corso un controllo, non è stato possibile risalire ai detentori. Il tutto è stato comunque sequestrato grazie al lavoro svolto in un'atmosfera di piena collaborazione tra gli agenti di polizia e i cinofili del locale. Venezia, gondolieri sub, domenica, pulizia dei fondali grazie all'attività di alcuni volontari coordinati dal Comune. Sentiamo in che orari e dove. Domenica di lavoro a Venezia per i gondolieri sub che scenderanno in acqua per ripulire alcuni punti dove si sono accumulati una serie di rifiuti sui fondali. In particolare le pulizie mirano a rimuovere le gomme che vengono usate come parabordi e che spesso si depositano dove non dovrebbero. Si tratta di una collaborazione grazie ad una convenzione tra l'Associazione Gondolieri e Caffarsetti. Le operazioni inizieranno alle 8 e termineranno alle 13. I volontari saranno coordinati dal Comune. Durante le immersioni nei punti interessati alle pulizie, il traffico sarà interdetto. Un cittadino senegalese è stato arrestato al Parco Albanese di Mestre con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato individuato da una pattuglia della squadra cinofili delle Fiamme Gialle. Capendo di essere stato riconosciuto e temendo di essere catturato, ha gettato a terra tre sacchetti di celofan ed è montato in sella alla sua bicicletta tentando la fuga. La corsa verso la libertà però è durata poco perché immediatamente è stato raggiunto da un'altra pattuglia dei baschi verdi che si era appostata nelle vicinanze a bordo di un'auto sotto copertura. L'africano a quel punto non ne ha voluto sapere di arrendersi, ha gettato la bicicletta contro l'auto di servizio fuggendo a piedi. È seguito un movimentato inseguimento nel quale il soggetto ha colpito in maniera violenta anche un uomo della Guardia di Finanza. Nel frattempo le unità cinofile, grazie all'ausilio di due cani, hanno recuperato i pacchetti lasciati a terra contenenti la droga. C'erano 77 grammi di marijuana già suddivisi in 18 dosi. Giudicato per direttissima, il senegalese ha patteggiato due anni di reclusione sostituiti da dieci anni di espulsione dal territorio nazionale con custodia cautelare in carcere in attesa della concreta esecuzione di quest'ultimo provvedimento. Oggi festa della donna e vogliamo mandare un servizio realizzato dalla nostra redazione con un pensiero speciale a tutte le donne. L'8 marzo è ormai diventata una giornata importantissima che permette a entrambi i sessi di ricordare, di pensare e di riflettere su quanto di più grave accade ogni giorno nei confronti delle donne ma anche su quanto siano importanti e su quanto, seppur tra mille difficoltà, sia bello esserlo. Da quando è stata istituita questa festa, nel 1909, il gentil sesso non si è più fermato e ha continuato a lottare per far valere i propri diritti per la parità dei sessi. Questa giornata è diventata il simbolo di questa lotta che nonostante enormi passi da gigante è ancora molto distante dal completo compimento. Marie Curie, Malala, Margherita Hac, Elena Lucrezia Cornaro, Rita Levi Montalcini sono solo alcune tra quelle che hanno fatto la storia, che hanno dimostrato a tutti che non c'è un sesso forte e uno debole. Anche grazie a loro oggi molte cose sono cambiate ma il merito non è solamente attribuibile a queste grandi donne bensì va distribuito ad ogni singola bimba che nasce e che crescendo contribuisce al cambiamento. È per questo che gli auguri spettano a tutte le donne che ogni giorno acquistano sicurezza e consapevolezza e che nonostante qualche mostro provi a intimidirle perché radicato in un deficit culturale del passato difficile da estirpare riescono ad affrontare la vita senza paura. Auguri a tutte quelle donne forti che ogni giorno portano sulle spalle enormi fardelli ma che nonostante tutto riescono a sfoggiare un fortissimo sorriso. Auguri alla mamma, alla nonna, alla moglie, alla propria compagna, alla sorella, all'amica che ogni giorno aiutano, si prendono cura dell'altro e che seppur con qualche difetto risultano imprescindibili. Tanti auguri a ogni singola donna allo stesso tempo nel suo modo di essere unica e speciale perché in fondo, come si dice spesso in questa occasione, che mondo sarebbe senza le donne? E adesso proseguiamo il nostro telegiornale dando spazio ad un'altra donna, la nostra esperta di storia Marisa Sottovia per la rubrica di approfondimento. Ben ritrovati con la storia. Dedichiamo la ricorrenza alla festa della donna alla prima donna laureata al mondo che è Elena Lucrezia Cornaro Piscoppia che si è laureata all'Università di Padova in filosofia ed era il 25 giugno del 1678, aveva 32 anni. E allora conosciamo Elena Cornaro, nacque a Venezia nel 1646, quinta di sette figli di famiglia nobile importanti, il Corner o Cornaro per dir si voglia, e si accorse del suo talento il padre. Quindi le avvicinò dei docenti eccezionali per sostenere gli studi della lingua greca e latina, ma inoltre fu sostenuta anche per le lingue moderne francese, ebraico e inglese. A un certo punto tiene un'esposizione al collegio del senato veneziano di filosofia in greco e fu un successo. A questo punto il padre ebbe un'idea di far laureare la figlia. Chiese così all'Università di Padova di poter conseguire la laurea per la figlia in teologia. A questo punto possiamo proprio usare il termine apriti cielo, perché nacque una discussione molto accesa, una forte opposizione, da parte del vescovo dell'epoca che era Gregorio Barbarigo. E disse la famosa frase, è uno sproposito dottorar una donna, è rendersi ridicoli al mondo, ma quelli erano i tempi. Si arrivò così a un compromesso, a Elena fu concesso di laurearsi in filosofia. E sarà appunto il sabato del 25 giugno 1678 che Elena poteva laurearsi. Fu un fatto epocale, la sua esposizione fu ascoltata da medici, da filosofi e da gente comune. E si racconta che anche il re Luigi XIV, in viaggio, successivamente, volle fermarsi e rendersi conto che effettivamente il fatto era accaduto. Le fu consegnato l'anello d'oro, il beretto dottorale e il bacio accademico. Elena continuò i suoi studi, rimase a Padova, non ebbe una vita privata, però aveva una salute cagionevole e a soli 38 anni scomparve ed è sepolta nella Basilica di Santa Giustina. Quindi la sua laurea è stata un fatto epocale, però non sufficientemente ricordata nel tempo. Anche oggi la statua di Elena è collocata nello scalone che porta al primo piano del cortile antico, dietro una cancellata poco visibile e quindi è auspicabile che questa statua sia posta in un luogo più accessibile. La seconda donna laureata al mondo sarà Lucia Bassi, Laura Bassi dell'Università di Bologna, però ci vorrà un secolo. Quindi una donna eccezionale, Elena Lucrezia Cornaro, che va ricordata appunto ed è passata alla storia. Grazie a Marisa Sottovia per la rubrica di storia. Adesso noi diamo un'occhiata alle previsioni del tempo. Sabato e domenica avremo una fase anticiclonica con tempo stabile, qualche nebbia nelle ore più fredde in pianura e in qualche valle. Lunedì però le condizioni cambieranno. È annunciata una depressione dal nord-ovest che porterà un aumento della nuvolosità con alcune precipitazioni specie sulla pianura e anche un rinforzo di venti. Poi da martedì tornerà l'ingresso di aria più fredda e asciutta da nord. Siamo arrivati al termine di questa edizione. Ringrazio tutti voi per l'attenzione. Vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Autore dei sovrapposti